Paola, faremo tardi al cinema. Ma mi sto facendo bella. Ah, lo vedo. Molto, molto bella. Eh? Ah, così, nuovo kamai. Cos'ha di nuovo? Ha un uovo profumo delicato, prezioso. Francese, naturalmente. Sì. Nuovo kamai è una carezza sulla pelle. Una carezza? Ehi, faremo tardi al cinema. Al cinema. Nuovo kamai, quel pizzico di fascino in più.